D'accordo? Eh, eh, là c'è la fiori. La grande famiglia. Ecco, ecco. Vedi come vado? Le esplicate. Io le sento anche, come si dico, questo sentimento di relazione tra di loro. Ancora devono salire due. Ecco qua. Eh, Rosita, non esci dopo, non esci dopo, non esci dopo, Rosita. Rosi! Rosi! Voglio che ti dà una nassù. E che cazzo sta scavandola? Ehi! Che si mangia? La menta? Quella come chiama? Orga! 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 Orga!